E che abbiamo visto un video dei terrapiattisti Dei terrapiattisti che dicono che i giganti sono esistiti E che avevano le mamme mignotte Cioè, adesso esistiamo noi perché c'erano le donne dei giganti Che erano delle mignotte, a detta dei terrapiattisti O meglio di quello specifico Che è andata con i giganti Ecco perché si dice mignotone gigante Vedi tutto torna, quindi allora i terrapiattisti hanno ragione Futuristic Los Angeles Mega Mansion Ma... rossa Questa è devastante Questa è incredibile Ma in che senso? Ma in che senso? Si piegano in modo personalizzato in funzione del... Quando il sole è in funzione dell'inclinazione del coso Mi sono rotto il cazzo e metto la pizza qua davanti Fanno il culo Ah, si, sai che quello lo voglio anch'io? Sta cosa qua è devastante, se ci pensi Mortaggio di Pippo Questa è la cucina per lo chef Cioè sostanzialmente Sostanzialmente se c'è la cucina dello chef Perché devi fare una cucina in casa? Non capisco Cioè è sicuramente bello avere una cucina dove ti metti lì È bello Può essere anche tipo un piano bar Infatti su tutta roba scomparsa non ci sono i pensili 50 milioni di casa Devo fare la doppia cucina per fare colpo Sub day in una casa così prenota le giochiamo a nascondino tutti Ah, la brutta è da troppo Ma? What the fuck Bellissimo Bellissimo Spettacolo, ragazzi Non ha bordi quindi è infinito Inteso che non ha il bordo Quindi si collega bene con la vista E quant'altro Sembra infinita Tutto filosofico Il parquet sul soffitto Si insomma Ecco perché c'è il parquet sul tetto Adesso preme un tasto Inverte Inverte la gravità della terra BAM E cammini sul soffitto Infatti faccio caso Se tu guardi al contrario Cioè puoi far tutto Geniale 35 mila dollari di pezzo Di vetro 35 mila dollari Per 35 mila dollari Per un pezzo di vetro Triplo Ma non può costare così Non voglio crederci Ah ma perché Quello è il vetro Che divide teoricamente Tipo la E certo Perché è l'idromassaggio Quella Si E' per quello che c'è il vetro Non volevano mettere il cemento E hanno messo il vetro Per unire le due piscine Mantenere il caldo Da una parte E dall'altra no Geniale Cioè io in casa nuova Non so se mettermene una Di asciugatrice Perché la maggior parte Dei capi d'abbigliamento In asciugatrice Non ci vanno Questo c'ha due asciugatrice Due lavatrici What the fuck Portarci di più Prega pensate Vivere in Cioè Lavorare In questa casa Come What the fuck What the fuck On their privacy Exactly Nice seating area Switch Detail That we have Switch plates That we have Throughout the house Owner of this property Wanted to have Something analog Something that Worked a little bit More simple There you go Lo voglio anch'io Ma è bellissimo Carino però È super estetico Non è Non è simmetrico Minchia a me fanno venire Un problema Le robe asimmetriche Bello però Ma che cazzo K-Way Che figata questo raga Bellissimo Bellissimo Sta parte qua davanti È devastante Con la folla Le macchine E' incredibile È fatto molto bene Questo Mi piace veramente un sacco Raga io passerei giorno qui Cioè Se io invitassi Ron Qui Sarebbe un disastro Completo Lo sapete Ron sarebbe lì A fare i tempi A fare i tempi Gara sui tempi Ma che cazzo Di blocco Ah ma quello è fatto apposta Non c'è un buco per terra What the fuck Al proprietario Gli piacciono le macchine 0,25 Mazza Che macchine Che ha il tipo Però eh Raga Una bella Porsche Completamente nero Matte Con i cerchioni Metallizzati neri Cioè È mostruosa Guarda lì Che cazzo C'ha Sembra tipo Una roba di Batman È vero L'architetto ha usato Tutto sulla stessa Scala colori Ho fatto caso anch'io Marrone Marroncino Bianco panna Bianco E grigio E nero Perdoni un attimo Ma scusami Ma dove cazzo Le fai entrare Ste macchine Con l'elicottero Con il cargo Bob Te la vengono a prendere Scusa eh Non ho capito Sinceramente Che immaginatevi raga Postazione Dietro pigli Premi un tasto Apri Vai sopra qua E c'è il giardino Eh raga il bidet non c'è in America Forse solo negli hotel Lo mettono il bidet eh Io mi ricordo Sì negli hotel in America La maggior parte Quelli di 5 stelle Li trovi Il bidet lo trovi Non lo usa nessuno Nessuno raga C'è il quadro In bagno Per mettere il quadro in bagno Sì devi averli Cioè sei Non sei ricco Sei Ma Cioè hai tutto Qua l'architetto ragazzi Si è fatto di LSD Allora ha detto che Hanno voluto mettere Le 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 ciminiere Le cimini come si chiamano Le Le canne Queste qua del camino Perché funge Da Sorta di Zona d'ombra Per poterti permettere Di fare la doccia Al sicuro Nel senso che così Non ti vede nessuno Grande scusa per dire Che in realtà Cioè per non dire La vista fa cagare Perché c'ho due pali Merdosissimi Che mi guardano davanti Uno Due Addirittura il tizio L'architetto ha fatto Questa qui è una balcona È un balcone raga Cioè la doccia È in una stanza Dove c'è un balcone Dove se vuoi però Chiudi il balcone E diventa È come se fosse in realtà Poi non una stanza Ma un box doccia What the fuck Questa è chiaramente Una zona cannete Questa qua è Zona bong Avere una stanza Con questa vista qua È impagabile Il problema è che È pieno di smog Non si vede niente La nebbiolina Ma guarda che figata Era la luna Ma ha detto due volte Anche l'altra Era la sua preferita Questa cosa Non ci piace però Ti vendi troppo facilmente Vecchio Non va bene Non sono d'accordo